C'è un altro qua da me Quello che poteva servire Ho recuperato un po' di materiale Meno male Tieni Ti sei fatto male in Italia la prossima volta Te ne do ancora un po' Si cazza di cecchie Non stare attenti Minchia in nove di dentro siamo Ma si può Oh che pare che ci mirano questi La faccia a venire? No Eh adesso stanno guardando te Tu sei in safe? No no sono nella siepe Non sono in safe Finché il problema è che ci ritroviamo di nuovo a panino Così se stiamo qua No non ci posso credere Ma no vabbè io sono stufo di queste cazzate qua sono stufo Eh di momento in due sono No lasciami perdere non ce la puoi fare Ti ringrazio ma Ti ringrazio ma Ma che dobbiamo fare? Vai vanti Ma safe Sono in due che sparano Immagini Ok Con due che sparano a nonno Ma tu ti rendi conto? Eh mi rendo conto si purtroppo C'ho le splash se vuoi Eh aspetta mi sto facendo il medico Ne hai uno solo? Cazzo Oh minchia là ci sono dei band Non riesco a prenderle Porta troia No ne ho un altro Ne ho un altro? Ne ho un altro No 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 Bastardi Vieni 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 È il problema che Entro Statico io Oh no 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 Devo lasciare qualcosa Lascio la mia traghiera Barico che mi Dai non mi devo prendere dai 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 Ok tutti qua Tutti qua Ok mi riprendono le fraglie Adesso barico io Io non ho ancora un'ottima munizione Cioè non ho tentato Rompi Blue Rompi a muoio nella serie Andiamo Stanno fightando Allora andiamo su di qua Dov'è? Perché non mi riesco a muovere Perché c'è l'albero Io sono dentro qua da loro Eh Zeus Tieni di shield Cazzo ci fanno vedere No no Spara Zeus È bianco Eh sta cazzo Eh sta cazzo Eh sta cazzo Eh sta cazzo Da qua Merda è là dietro Attenzione Grande Grande Muore Dov'è? 105 Si è fortificato il merda Eh mi sa che A sto punto Si a sto punto Bisogna fortificare C'è la mamma zoccola Attenzione la mamma zoccola Ah però basta Minchia sta minchia di safe Sempre da loro Eh minchia mandato Riamo di là Quello di là Atterra Ucciso Eh ci ha tirato la bomba Sto bastard Eh però gli ho fatto un colpo in testa io Mi ha fatto un 262 che se lo ricordo tutta la vita Oh Oh No Di nuovo a panini Sto prendendo il loot io qua Zeus Io tento di sparare a questi Ah no Che scappi Qualcuno l'ha colpito Oh bianchissimo Eh ma c'è anche il cieco dall'altra parte Oh Oh Dov'è quello stronzo Minchia la safe Porco diaz Scendi di qua E se ce la facciamo a pelo Tuca Eh te lo credi prendermi eh Sono fatta il culo Lo facciamo a pelo Mettia la testa qua Non ci posso Minchia di nuovo da loro Corco diaz vienzo se andiamo già in se il seguime sono qua io sotto di loro a 6 sotto di loro dove sei tu arrivo eccomi ok io non sono entrato aspetta ok qua è aperto chiudo no no qua c'è la ah no non ho aperto io qua chi? è loro oh è atterrato uno eh perquisisco dove vai? dove vai? vieni qua la p90 accendete di te lo prendo lo prendo andiamo in safe ci sai vieni ok distruggiamo qua tre squadre quindi siamo due contro uno e uno intanto la mia skin si sta illuminando sempre di più perché vuole vincere apro qua così andiamo in safe qui 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 è è qui l'altro l'altro è l'altro è un'a è l'altro non fa da noi eh questo ci spacca da sopra se va bene forse vien da qua dalla porta preparati ancora si stanno scannando qualcuno si sta scegliando mucca mastardo non ce la faccio vai 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 tranquillo uccidi io vengo con te così se mi fai uscire lui magari starà a me e starà a lui dov'è? sobra no non ce la faccio sobra discende vai 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 Grazie a tutti